Io sono il tesoriere della Prologo di Cadrezzate, mi chiamo Macaruso Roberto. Quattro anni fa con la Prologo di Cadrezzate abbiamo deciso di stampare questi 800 volantini. Sono dei deplianti esplicativi distribuiti gratis a tutte le famiglie di Cadrezzate. Questo depliant spiega il percorso storico di Cadrezzate con i vari cortili storici di Cadrezzate e i vari pozzi e alcune fontane.